La palazzina nella quale è stato catturato non era il covo dove ha trascorso oltre un mese di latitanza. Giovanni Vitale, 48 anni, conosciuto come Il Panda, la considerava comunque un luogo sicuro nel quale poter incontrare la moglie. Proprio seguendo gli spostamenti della compagna, i carabinieri del comando provinciale di Palermo sono riusciti a bloccarlo con il blitz scattato nelle campagne tra Montelebre e Giardinetto. Sei catturato? Le indagini non si sono fermate però con la cattura. Già subito dopo l'arresto era forte infatti il sospetto che la palazzina non fosse reale nascondiglio, tanto che il covo è stato scoperto nella tarda serata di ieri. In questo caso niente campagne. Giovanni Vitale ha trascorso infatti la sua latitanza in un'abitazione di Borgetto, centro in provincia di Palermo. Il proprietario, un 53enne di Partinico, con precedenti anche per truffa, droga e rapina, è stato denunciato per favoreggiamento. Già durante la cattura di Vitale era stato arrestato un altro presunto favoreggiatore. Si tratta di Salvatore Billeci, operaio incensurato di 32 anni, che aveva accompagnato la moglie del latitante nel nascondiglio. All'interno del covo di Borgetto i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato una carta d'identità e una patente, entrambe falsificate. Segno, spiegano i militari, del peso criminale di Vitale.